Il centro di Le Quartarelle è stato fondato nel 1949 dai miei nonni Nicola e Irene, successivamente sono entrati a farne parte i tre soci senior dell'azienda, che sono Piero, Antonio e Giuseppe. Negli anni successivi, fino agli anni 80-90, siamo entrati noi della terza generazione, noi cugini della terza generazione, che siamo attualmente in otto. L'altro anno importante dell'azienda è sicuramente quello che ci ha visto partecipi del gruppo Big Mat nel 2008. L'adesione al gruppo Big Mat ci ha permesso di avere un confronto continuo con gli altri rivenditori del settore e con altri fornitori, quindi c'è un processo continuo di crescita, ci ha permesso anche di andare a esaminare altri aspetti che noi non avevamo mai considerato. Fino ad arrivare al 2010, hanno l'inaugurazione dell'attuale sala mostra, che ha avuto vari riconoscimenti dagli operatori del settore e che tra l'altro ci ha anche permesso di sviluppare circa il 70% dell'attuale fatturato dell'azienda. Le caratteristiche del nostro showroom, nonostante la grande superficie, è quello di renderlo accogliente e ricco di ambientazioni personalizzate e curate nei minimi dettagli. Il mondo della distribuzione spesso sottovaluta il layout, che è per noi il punto di forza su quale si basa il nostro business. Molto spesso, quando riceviamo visite da colleghi e funzionari di aziende che vengono dal centro-nord Italia, non si aspettano una realtà simile. Devo dire che per noi al sud abbiamo un'attenzione maniacale per la realizzazione della propria casa, curando i minimi dettagli. La tipologia dei prodotti più richiesta è dai rivestimenti al ridobagno, pavimentazione, che va dal gress al parquet. La mia collaborazione con la famiglia Quarterea risale da tantissimo tempo, parliamo quasi da 25 anni più o meno. Dunque, le esigenze che mi hanno trasmesso e l'analisi che c'è stata dal vecchio, dal passaggio dal vecchio e nuovo, erano abbastanza palesi. Dunque, per prima cosa, uno spazio più grande. Per seconda analisi, uno spazio che avesse più fruibilità e più visione del prodotto. Partiamo dal presupposto che si è voluto, prima di tutto, di un spazio molto luminoso e fruibile, e di facile comprensione per quanto riguarda il prodotto. Cosa abbiamo pensato di fare? Di avere uno spazio abbastanza neutro, che non passasse di moda facilmente, dunque avere uno spazio quasi museale, un pavimento continuo, grigio, e delle finiture, per quanto riguarda le pareti, abbastanza neutro. Un foglio da disegno dove poter dipingere praticamente ogni singolo prodotto. Dunque, avere delle zone dedicate alla casa, proprio nel arredo in sé per sé, e arredo casa, zone dedicate al bagno, zone dedicate al parquet, zone dedicate a materiale e rivestimenti particolari d'arredo o di riscaldamento, oppure per impianti idrici. Ogni prodotto era ed è di facile percezione. Grazie. 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 Grazie.